Ciao a tutti ragazzi, rieccoci sul mio canale, io sono Francea e oggi continueremo Resident Evil 4, finalmente riusciremo mai a portare a termine questa serie, andiamo? Eccoci qui, dovevamo entrare nel catacombe, ora andremo a vedere che cosa ci riserva il futuro. Ok, siamo arrivati giù alle catacombe, vediamo che cosa è questo, c'è scritto più avanti riposano le offerte al leone, ok, perfetto, andiamo a trovarle, oh figaro, allora, andiamo di fucile da cecchino e cecchiniamo tutto. Micchia, sta già arrivando il tipo con la motosega? Dio santo. Mammo, ha ribruciato, vaffanculo. Allora, dov'è l'uomo con la motosega? Non me lo dico, oh cazzarola, merda. Perché di queste parti importanti non mi ricordo mai una menghia? Perché? Allora. Eccolo, ok. Cecchiniamo. Anche se non ho molti proiettili, devo dire. Prima cecchiniamo questo. Non ha senso tutto questo, vabbè. Ci metterò un'eternità, raga, ve lo dico. Mori, please. Mi stai facendo finire un caricatore? Ok, facciamo così. Ecco, è morto. Ora, ci andiamo a prendere la ricompensa. Saliamo qui. Ok, devo prendermi quella ricompensa. Cazzo? Ma da dove cacchio arriva tutta sta gente? No, sei tu un figlio di puta. No. Oh. Oh. Eccolo Oh mio dio Senti te Muori che mi ero ti coglione Se io vado di Di nuovo di magno Olè Beh ne ho finito i proiettili Però almeno L'abbiamo fatto fuori subito Oh qua ci dovrebbe essere Un tesoro se non erro Oh sì Oh sì Bastone reale Sì adesso andiamo qua su Ho la chiave Sì ce l'ho Esatto la chiave per la miniera Ok quindi ora entriamo in una miniera Niente soldi Niente soldi Oh mio dio Oh cazzo ancora Armiamoci di mitraglietta Armiamoci di mitraglietta Oh madonna Pensavo di essere morta Questa tomba Oh quanti soldi Raga Oh madonna Che ce devo fa Me sto arricchendo Andiamo qua giù Andiamo qua giù Il fucile a pompa Il fucile a pompa E la mitraglietta Perché Ci sarà un po' di gente brutta Ma brutta brutta Ok Sto sempre nell'ultimo vagone Ok Andiamo Andiamo Oh cazzo Meglio che li uccido Nel mio vagone Così Tutto quello che hanno Oppure Li faccio cadere qui Oh yeah Continuazione Sì ma me danno solo soldi Oh Me servono munizioni Ahia Figa Adesso facciamo ripartire Sto cosa Ok Ok Sento il cielo Per fortuna Quello con la motosega È caduto giù Sennò sarebbe stata Una bella rottura Di palle Anche se Mi avrebbe dato Un po' di soldi Devo dire Adesso Usiamo un po' Il fucile a pompa Sennò qua Finisco le munizioni Oh cazzo Vabbè Questa Mi facciamo salire Oddio Madonna che bug Ragazzi Sono fuori dal bidone In realtà Guardate Mi sento il cielo Dai 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 Oh madonna Mi fa venire Un colpo Te devi arrampicare Oh madonna Apriamo qua Oh Che cos'è questo Uno specchio No Ho preso la pietra Sacrificata Ah Sì è vero Mi serviva Lo stemma Abbiamo Buttato al cesso Un po' di munizioni Della mitraglietta Ma almeno Siamo sopravvissuti No Andiamo su Adesso mettiamo Lo stemma Qua Usa E Entriamo Oh santo cielo Un ascensore Stiamo entrando Nella chiesa Ok Dove ci troviamo Proviamo esattamente Io non mi ricordo più Ah Oh cazzo Oddio È una gigantografia Di Di quel nano di me Merda Già Beh raga Visto che questa parte È un po' lunghetta Io direi Concludere qua Questo episodio Prima però Ci tengo a salutare Andrea Torresin Che mi ha chiesto Di salutarlo Gli mando un grande bacio Ciao Andrea Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Commentate Condividete E mi raccomando Iscrivetevi al canale Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao